Erano gli occhi suoi che sorridevano per me La mia esperienza è stata molto positiva, il lavoro è stato molto produttivo e mi ha aiutato molto nella scelta del lavoro che voglio fare in futuro. Sono uscita con un carattere più forte e più responsabile e questo mi ha aiutato molto, infatti mi è piaciuto molto. Dopo questa esperienza esco più saggio, più sicura di me stesso. Le persone che hanno bisogno, che non vanno in vacanza come noi andiamo in vacanza. Più felice, me ne vado più felice. La responsabilità di dover vadare comunque a tanti bambini. Sono contenta perché comunque è stata una bella esperienza, mi sono divertita, cioè ci siamo affezionati gli uni agli altri. Me ne vado via da qua e con la consapevolezza di essere sicuramente più paziente e capito che ognuno ha i suoi tempi nell'aprirsi nei confronti degli altri, ognuno ha il suo modo di rapportarsi agli altri. Perché anche a me piace stare con i bambini, appunto quando vedo il mio cugino ci gioco sempre. Sicuramente sono tanto paziente, perché io pure avendo anche delle sorelle piccole non ho mai avuto molta pazienza, cioè ho subito cose per gli altri, quasi tutti gli obiettivi raggiunti sono benvenuti da noi stessi. Proprio negli occhi suoi c'è la luce per me. Dai vieni con noi, dai vieni a segnare, sì 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 sì. Dai vieni con noi, dai vieni con noi. Dai vieni con noi.